Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Oggi video all'aperto, una passeggiata in riva al fiume per parlare di VPN. Questo video non è assolutamente sponsorizzato, quindi potete stare tranquilli che tutto quel che dirò non è perché qualcuno mi ha pagato, ma è effettivamente quello che penso. E allora, vediamo da anni e ormai un sacco di pubblicità su YouTube, è veramente una pubblicità incessante su queste VPN e anche da parte di YouTuber che non trattano di tecnologia. Quindi, cosa posso dirvi? Innanzitutto dobbiamo capire cosa permette di fare una VPN, perché le pubblicità sono, a mio modo di vedere, assolutamente ingannevoli. E molti si avvicineranno a questa tecnologia sicuramente aspettandosi ciò che non riceveranno. Viene pubblicizzata l'anonimizzazione dei dati, beh, non è assolutamente così. E allora, cosa permette di fare una VPN? Innanzitutto vi faccio l'esempio di un ufficio in cui i dipendenti hanno a disposizione dei sistemi presenti nell'ufficio e quindi per lavorare devono essere necessariamente in quell'ufficio collegati in LAN e quindi potendo accedere a quei sistemi. Cosa fare invece se qualche dipendente vuole lavorare da casa? Beh, installare un server VPN. Quindi se l'ufficio dà a disposizione un server VPN, i dipendenti potranno collegarsi da casa, risultare effettivamente in LAN come se fossero nell'ufficio e quindi sfruttare quei sistemi la presenti. Ma parlando in generale, quel che fa la VPN è semplicemente instradare il vostro traffico, far passare il vostro traffico dalla VPN. Quindi ogni volta che vi connettete ad un sito, il primo passaggio sarà il passaggio verso la VPN. Adesso è sicuramente vero che questo passaggio è criptato, quindi nessuno potrà mettersi là in mezzo a vedere cosa fate, a vedere le vostre attività. Anche il vostro server provide, anche il vostro provider internet non potrà vedere cosa fate, perché questo primo passaggio è criptato. A proposito, tramite strumenti come Traceroute potete proprio vedere questi passaggi. Voi scrivete Traceroute, è il nome di un sito, e vedrete tutti i passaggi che vengono effettuati fino a raggiungere quel determinato sito. Se utilizzate una VPN, il primo passaggio sarà il passaggio verso la VPN. Ripeto, è un passaggio criptato, quindi non male in teoria, ma io vi proporrò un'altra soluzione. E allora, questo primo passaggio è criptato, è davvero. Ottenete anche, per così dire, l'indirizzo IP della VPN. Scambiate il vostro indirizzo IP con quello della VPN. Ai vari siti su cui vi collegate risulterà quell'indirizzo IP. Questo è verissimo. Ma da qua a parlare di anonimizzazione ce ne passa davvero tanto. Un'altra questione, secondo me è, beh, se volete nascondere tutto al vostro provider internet, beh, se siamo sicuri che la soluzione è dare tutto in mano ai provider VPN, a me sembra un po' scegliere il veleno con cui suicidarsi. Quindi, insomma, qual è la mia soluzione? Vabbè, la mia soluzione è installarsi un proprio server VPN a casa. Ma come il server VPN a casa? Ma quindi non cambierei il mio indirizzo IP? Cosa me ne farei? Potrei solo utilizzarlo mentre sono fuori? Beh, certo, intanto con questa soluzione abbiamo già eguagliato quei vantaggi tanto decantati nelle pubblicità quando ti dicono che tramite una connessione VPN sei sicuro quando ti colleghi su reti pubbliche. Perché ovviamente nelle reti pubbliche potrebbe esserci qualche malintenzionato, ma se questo primo passaggio di cui parlavo, se questo primo passaggio è criptato, il malintenzionato non avrà nulla da poter fare. C'è anche da dire che questo è un aspetto esagerato perché oggigiorno anche le connessioni ai siti avvengono in modo criptato, utilizziamo la versione HTTPS dei vari siti, ma va bene. È comunque un passaggio criptato, quindi una sicurezza in più. Con il server casalingo che vi fate, effettuate una connessione VPN a casa vostra ed è la stessa cosa. Ok, però non cambiate l'indirizzo IP, non nascondete nulla al vostro provider internet. Sì, è verissimo. Beh, sapete qual è la mia soluzione? Coinvolgere una persona fidata, un vostro amico, un vostro parente, comunque deve essere una persona fidata, che installi anche lui un server VPN a casa sua. Idealmente immaginatevi un amico all'estero, per cui voi vi collegate al suo di server VPN e lui si collega al vostro. Voi acquistate l'indirizzo IP estero, lui acquista il vostro indirizzo IP, ognuno di voi nasconderà al suo provider internet le sue attività, mentre è collegato alla VPN dell'altro. E quindi anche là abbiamo raggiunto gli scopi tanto pubblicizzati dalle VPN commerciali. Quindi questo, vi consiglio questo. Mi sembra una soluzione abbastanza intelligente. Non ci vuole assolutamente molto, non è difficile da fare. Io ho solo esperienza con WireGuard, ci sono ovviamente altre soluzioni, OpenVPN, ma WireGuard è molto semplice, non traccia nemmeno nulla, non tiene traccia di nulla, non logga nulla. Voi vedrete su WireGuard semplicemente quando è stato l'ultimo handshake, l'ultima, diciamo, connessione alla VPN. E questo è tutto. Ditemi che ne pensate. Certo, le VPN commerciali vi permettono di scegliere praticamente l'indirizzo IP, di scegliere lo stato in cui trovarvi di volta in volta e quindi ad esempio di accedere ai contenuti Netflix degli Stati Uniti, ai contenuti Netflix di un altro stato e così via. Ma a parte questo direi che è tutta pubblicità ingannevole, questo è il mio parere. Spero di avervelo anche motivato abbastanza. Io, come al solito, dico che non sono il massimo esperto mondiale, ma ripeto che un passare da una VPN è semplicemente allungare di un passaggio le vostre connessioni. Questo primo passaggio è il passaggio verso la VPN, sì è un passaggio criptato, ma tutto passa appunto dal server VPN. Quindi bisogna anche fidarsi del provider VPN. Va bene, direi che questo è tutto. Non è un video lungo, non doveva esserlo. Spero che vi sia comunque piaciuto. Scrivetemi la vostra nei commenti. Ciao da Clarintux.